Qual è la inaugurazione che chiude un ciclo positivo, virtuoso, dell'impegno che la LAP ha avuto in questi 15 anni per raggiungere l'obiettivo di costituire una collezione museale riconosciuta cittadina. In realtà non sono 15 anni ma sono 65 anni che è il primo bici Bugatti da quando è nato e negli ultimi 15 anni si è stati preparati, cataloghi, sistematizzato tutto il materiale che ha costituito un po' la base per entrare in questo luogo abbastanza importante di esposizione. Grazie